Si chiama Free Strider Trainer ed è un apparecchio di ultima generazione che promette di allenare tutto il corpo in maniera completa. Ne parliamo con Angelo Roia che è un preparatore atletico e conosce anche quelli che sono i benefici di questo macchinario. Meno male che conosco quelli che corrono, quindi tutti quanti, Alessio, Cesare, questi qua, che forse sono anche iscritti al Marathon Club, la società che io gareggio. E parlando con Cesare ha detto che c'è un attrezzo nuovo che somiglia a un ellittico e io la solita cosa, va beh l'ellittico buono, buono, lo volevo comprare anche io però costano molto, un buon ellittico ci vogliono 2-3 mila euro minimo. E no, tu non mi hai fatto fornire per là, perché no, quella è un'ultima generazione e fa tre cose insieme, fa l'ellittico, lo step e simula la corsa. E io ho detto ma com'è possibile? Ci siamo collegati a internet, su Youtube abbiamo visto il video, una cosa fenomenale. Sono riusciti a fare, a prendere i benefici dei tre attrezzi, quindi lo step, l'ellittico, il simulatore di sci, anche si può chiamare, e poi la corsa. Ed è una cosa incredibile. Il prezzo è un po' elevato, più o meno di 4 mila euro, però chiaramente sono andato anche a vedere se potevo ordinarlo. Quali sono i benefici per una persona che si allena? Anche se tu effettivamente fino adesso non l'hai ancora provato, come scandiresti i vari tipi di allenamento su questo macchinario? A parte che si possono puntuare in un momento, un po' come la Ducati multifunzione, che tu premendo un bottone c'hai la Ducati strada, la Ducati da pista o da motocross. Ormai la tecnologia va avanti, con i sistemi miniaturizzati elettronici si può fare tutte queste cose. L'ellittico noi ce l'abbiamo, l'ho sempre fatto dal 2005 quando lo comprammo, e poi c'è anche il tappeto, chi non lo sa, lo step, il solito step, quindi i benefici li sappiamo. Lo step, specialmente lo step, le donne lo fanno per migliorare il posteriore, praticamente. La corsa si sa, il tappeto, però se non vai a una certa velocità vuol dire che non sei in forma, praticamente si è in minima forma quando fai 10 km in un'ora. E sembra facile, ma se non sei allenato non è che si fa facilmente. E l'ellittico poi anche lì è un simulatore di sci, quindi questo apparecchio mette insieme le tre cose. Quindi un giorno ti fai l'ellittico, ti metti, beh, come stessi sciando, poi il giorno dopo, visti che il lavoro aerobico si fa palestra e poi il lavoro aerobico, oppure solo il lavoro aerobico, per chi non fa la palestra, e un giorno fai lo step, un giorno fai l'ellittico, un giorno fai la corsa. È bellissimo.